Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Siamo al centro di San Benedetto, in via Vittorio Veneto, alle nostre spalle il nuovo punto vaccinale attivo da lunedì 1 agosto. Si ricorda che per la nuova vaccinazione dobbiamo passare 120 giorni dall'ultimo tampone positivo o dall'ultimo vaccino. Dottor Angelini, da lunedì 1 agosto le vaccinazioni anti-covid a San Benedetto sono riprese qui in via Veneto, in una nuova ubicazione rispetto a quella precedente di fronte all'ospedale. Un bilancio della prima giornata? È andato tutto perfettamente, tant'è vero che il primo abbiamo vaccinato 125 persone. Gran parte si è trattato di quarte dosi, poi c'è stata anche qualche terza dose e una prima dose di qualcuno che ancora era resiliente alla vaccinazione. Gli spazi sono ampi, freschi e comodi, tutt'altra cosa rispetto ai problemi che si sono ravvisati di fronte al pronto soccorso? Sicuramente sì, sono degli spazi che ci permettono di avere una sala d'aspetto confortevole e quindi l'esecuzione della vaccinazione poi viene effettuata in ambienti sicuri, tra virgolette, perché la vaccinazione è pur sempre un atto medico che richiede chiaramente una location adeguata in termini di sicurezza e in termini di percezione della sicurezza da parte del vaccinando. Quando è possibile vaccinarsi qui a San Benedetto e in che modo è possibile prenotare? Allora, partendo dall'ultimo, la prenotazione va fatta sul sito regionale. I giorni di apertura sono rimasti gli stessi, il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. È importante la vaccinazione perché chiaramente la quarta dose riattiva il nostro sistema immunitario, perché sappiamo che gli anticorpi prodotti dalle vaccinazioni, che sono praticamente la nostra protezione, poi con il tempo tendono a scendere, a diminuire. Quindi se ci sono delle persone fragili, dovute all'età, dovute a delle patologie concomitanti, qualora si infettino, il problema, diciamo da un punto di vista clinico, diventa importante. E poi traghetteremo tutti verso ottobre, novembre, quando sembrerebbe che ci sia una nuova ondata e probabilmente qualche altra variante che potrebbe essere più seria di questa omicron 5.